Riapriamo le case chiuse e tassiamo quello che è il lavoro più vecchio del mondo. Scongiurare l'aumento dell'IVA riaprendo le case di tolleranza. La legge Merlin impedisce allo Stato di introiettare svariate centinaia di milioni di euro. Ne è convinto l'assessore provinciale alla sicurezza Enrico Pavanetto. Noi non vogliamo arrivare assolutamente al 22% perché questo scaccierebbe le imprese e i privati. Una delle soluzioni, se questo governo è così incapace che non vuole tagliare la spesa pubblica, potrebbe essere quella di riaprire le case chiuse e tassare la prostituzione. Pavanetto rilancia l'idea chiedendo di mettere da parte, per una volta, i falsi moralismi. Purtroppo fosse la presenza di un finto moralismo nel nostro paese impedisce di fare quelle cose che in tutto quanto al resto d'Europa comunque già sono state fatte. Con una prostituzione regolamentata si risolverebbero inoltre diversi problemi legati alla sicurezza e al decoro, probabilmente spinte da una crisi economica sempre più feroce. In questi giorni le lucciole sono tornate a lavorare alla luce del sole lungo le principali arterie stradali cittadine. Le prostitute a Padova sono ricomparse nelle vie principali della città, nelle circonvaliazioni in Corsa Australia, anche nelle ore diurne. Noi questo non lo vogliamo più, non lo sopportiamo più. Ed è giusto che, attraverso una soppressione della legge a Merlin e una nuova normativa, vi siano dei centri per chi voglia fare uso di questo tipo di servizio, dove le ragazze siano curate e non siano sfruttate e dove queste paghino le tasse.